Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2022, sono previsioni collettive, quindi prendete i messaggi che risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene. Mostrami. Vergine, grazie. Il diavolo. Cari amici della Vergine, periodo di condizionamento probabilmente per qualcuno. Magari si tratta di voler far qualcosa che in questo momento non si riesce ancora a fare. Potrebbe parlarmi anche di qualche dipendenza, di qualche schiavitù che normalmente è volontaria. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Allora, partiamo con una regina di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, un carro al contrario. Allora, qui la regina di pentacoli potrebbe essere voi, potrebbe essere una persona nel vostro intorno, diciamo, ed esprime normalmente quello che è un'energia di una persona attenta agli altri, ma leggermente rassegnata, mi verrebbe da dire, perché ha quell'aria un po' malinconica, ha gli occhi chiusi, è comunque una persona riflessiva, è di che pensa, che sta meditando. Avendo anche il cavaliere di bastoni al contrario, è come se ci fosse, come vi dicevo, un'impossibilità di movimento. Vi so anche che abbiamo comunque la carta del diavolo che regge un po' la stesa e avendo anche comunque poi dopo la carta del carro al contrario, sento che qui qualcuno è come se non si potesse muovere o come se pensasse di non poterlo fare, perché vi ricordo che il diavolo parla di schiavitù volontarie. Comunque, se ci fate caso nella figura, le catene sono lente, diciamo, quindi potrebbero essere spezzate, rotte in qualsiasi momento. Andiamo? Ok. Abbiamo, guardatela, un sacco di arcani maggiori, un sacco, due su quattro. Carta della forza. La carta della forza qui indica che vi manca un po' il coraggio di fare questo passo, di fare questo movimento che qui con il carro voi vorreste fare. Magari qui si tratta proprio di uno spostamento fisico. Abbiamo poi anche un re di denari, abbiamo un tre di spade. Guardate, è uscita re di denari e regina di denari, quindi qui per qualcuno si parla di una coppia per destino. Anche se fosse una stesa di lavoro, probabilmente potrebbe essere un collega, potrebbe essere magari un capo anche, ok? Ma essendo regina sento più un collega, però un collaboratore, quasi fosse un vostro pari, no? Essendo uomo e donna è come se fossero due parti di questo progetto lavoro, coppia, relazione, che si complementano l'una con l'altra. Abbiamo poi questo tre di spade. Il tre di spade mi parla di una sofferenza che comunque c'è ancora dentro di voi e poi qui abbiamo un cavaliere di coppa al contrario e un sei di pentacoli al contrario. Quindi quello che, diciamo, vi porterà questa delusione potrebbe essere il fatto che non ci sia quello che è un'offerta equilibrata, un'offerta equa, giusta, sia, ripeto, che sia una una stesa di lavoro, sia che sia una stesa da un punto di vista romantica. Essendoci comunque il cavaliere di coppa, per molti potrebbe risuonare come una stesa di coppia, anche perché giustamente abbiamo due carte dello stesso seme, però non è detto. C'è comunque, diciamo, verso metà giugno, quello che è la sensazione di un disequilibrio, la sensazione che qualche tipo di offerta appunto non arrivi, perché questo, oppure arriva, ma non arriva a quello che volete voi, nel senso che avendo comunque questo sei di pentacoli al contrario, un po' come se fosse nel vostro giudizio, a vostro parere, è come se fosse ingiusta questa offerta, in disequilibrio magari tra i vostri vantaggi, quello che avrebbe la persona che vi ha fatto l'offerta, insomma. Ok, andiamo a vedere la regina di pentacoli, andiamo a vedere se riesco a spiegarvela meglio. Allora, abbiamo la carta dell'eremita, al contrario, e la carta del fante di bastoni, al contrario. Qui c'è qualcuno che, credo che con questo eremita, al contrario, non si senta abbastanza indipendente, non si senta abbastanza autonomo, da un punto di vista proprio spirituale, da un punto di vista di forza interiore. Anche qui avevate la forza, eh? Sì, c'è qualcosa, qualche tipo di sicurezza in voi che vi manca, io credo. E poi comunque avendo anche questo fante di bastoni al contrario, potrebbe essere che a molte persone risuoni come una mancanza di quel sano egoismo. Allora, il cavaliere di bastoni è spiegato da un otto di pentacoli, vediamo che altro, e da un cinque di bastoni, scusate. Sì, qui si tratta di… probabilmente qualcuno si sente un po' incastrato in quello che è la vita di tutti i giorni. Ci sono anche dei conflitti, delle lotte, possono essere conflitti interiori, ma sento più che sono conflitti di tipo pratico, ok? Di tipo appunto per quello che è la vita quotidiana. È come se non ci si riuscisse a muovere come si vuole e verso la direzione che si vuole. Andiamo a vedere il carro, abbiamo un 3 di coppe e la carta del mago al contrario. Sì, appunto, il mago al contrario parla di non riuscire a manifestare qualche cosa, no? Difatti qui è il fatto che non si riesca ad andare dove si vuole. Guardate, avete diverse carte che mi potrebbero parlare di quello che è una manipolazione. Può essere un'auto, manipolazione, nel senso che comunque vi ricordo sempre che il diavolo è una schiavitù volontaria. Quindi il condizionamento potrebbe essere anche che siete voi a crearlo nella vostra testa, ok? Andiamo a vedere la forza. Asso di bastoni, 10 di spade e 10 di coppe. Sì, avete una carta, due carte, perché sono due dieci, di chiusura ciclo e una carta di inizio ciclo. Qui c'è qualcuno che fa fatica a lasciarsi indietro determinate cose, pensieri piuttosto che emozioni. Manca il coraggio di affrontare questo asso di bastoni, questo nuovo inizio, questo nuovo percorso, ok? Andiamo a vedere il re di denari che in realtà potrebbe anche essere una persona che in questo momento non è presente nella vostra vita, ma che arriverà proprio nella prima parte di giugno. Potrebbe anche semplicemente essere una persona che vi dà una mano, che vi aiuta, per esempio, no? In questo tipo di situazione di condizionamento, diciamo. Allora, per il re di pentacoli abbiamo un re di coppa al contrario e un sei di spade al contrario. Il re di coppa al contrario mi fa pensare al fatto che non ci sia una connessione emotiva in realtà con questa persona. E avendo anche il sei di spade potrebbe essere che in realtà non vogliate allontanarvi da questo re di pentacoli, da questa persona. Nel caso fosse una persona che entra nella vostra vita, perché magari adesso non avete nessuno, sento che una persona dalla quale... Io non credo che sentiate subito una connessione emotiva con questa persona, però è come se per certi versi vi aiutasse a capire quali sono le dinamiche dalle quali vi dovete staccare. Andiamo a vedere il 3 di spade. 8 di coppe, re di bastoni, 5 di coppa al contrario e 2 di coppa al contrario. Allora, qui io credo che il 3 di spade è spiegato da questo 8 di coppe. Credo che qui qualcuno stia cercando comunque di andarsene, perché giustamente qui avevamo quel movimento che si voleva fare, ma che non si riusciva a fare, ok? E abbiamo un 2 di coppa al contrario, quindi mi parla proprio di quello che è un'unione, un compromesso, un accordo, che magari o si rompe o può anche essere che una delle due persone prenda un tempo, si prenda un tempo lontano da questo tipo di accordo. Interessante, perché ha un senso avere due di coppa al rovescio qui e comunque il cavaliere di coppe al rovescio lì. Andiamo avanti, andiamo a vedere. Si era girata un'altra carta, il sole. Quindi sì, ha a che fare, ha a che fare con l'avere una maggiore chiarezza mentale su quello che qui, magari non avevate tanto. Andiamo a vedere il cavaliere 6 di coppe. 6 di coppe e 7 di bastoni. Sì, qui può tranquillamente essere una coppia, una relazione, qualsiasi sia la relazione, ripeto, di tipo karmico. Perché abbiamo un 6 di coppe, abbiamo un 2 di coppe, abbiamo comunque la carta del diavolo, abbiamo diversi riferimenti al fatto che potrebbe essere una coppia karmica. che comunque, ragazzi, non è proprio in equilibrio. Qui c'è un lavoro di indipendenza mentale da praticare. Qui si tratta di fare quello che il lavoro che l'eremita vi propone. Avete il diavolo, qualche tipo di condizionamento va elaborato. Avete il mago al contrario, c'è manipolazione mentale. Può essere vostra nei vostri confronti, vostra nei confronti di un altro, o viceversa, da parte di un altro, nei vostri confronti. E può anche essere in una relazione di tipo lavorativo, perché comunque io ho noto di pentacoli, qui ce l'ho. Quindi per molti è una situazione che hanno a livello lavorativo, dove magari ci sono anche dei conflitti, c'è competizione, sento un po' di invidia, come a chi fa i dispetti. Interessante. E come, perché qui ho un tre di coppe, che parla di celebrazione, di feste, di compagnerismo, di amici. Ed è come se, in qualche modo, questo gruppo, può sembrare un gruppo di amici, vedendolo così come carta, no? Però in qualche modo impedisce di dare una direzione. O non dà una direzione. Crea una manipolazione. Voglio andare a vedere ancora questo 6 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di pentacoli al contrario e l'appeso al contrario. Allora, quello che vi posso dire è che, avendolo appeso al contrario, a fine stesa, sicuramente qualche cosa cambierà. Sicuramente qualche cosa si sbloccherà alla fine di questo periodo. Se il 2 di pentacoli parla di alti e bassi, del cercare di mantenersi in equilibrio, essendo al contrario, è come se ci si avviasse verso l'equilibrio. È una cosa che magari ancora a giugno non vedete, non vedrete, diciamo così, magari verso fine giugno sì, andremo poi a vedere nella seconda metà del mese che cosa dicono le carte. Però sento che con questo appeso al contrario ci sarà uno sblocco della situazione, una nuova visione, una nuova consapevolezza di tutta questa situazione fondamentalmente. Perché vi dicevo, qui, questo tipo di tradimento di cui parla il tradispa vi darà la possibilità di schiarirvi le idee sul tipo di unioni che voi, o relazioni, o compromessi, o accordi che voi state comunque creando. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro vi posso dire. Andiamo a vedere due carte per il conscio e l'inconscio. Vediamo che cosa si vede e che cosa no. Io intanto volevo ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con le iscrizioni, con le condivisioni e con i commenti. Quindi grazie davvero a tutti. Andiamo a vedere. Per gli amici della Vergine, due carte per piacere, grazie. Il ribelle. Il ribelle è la carta dell'imperatore, eh? Che in questo mazzo viene chiamato il ribelle nel senso che è una di quelle persone che crea il suo potere personale rompendo le regole, spezzando le catene. E poi abbiamo divertimento. Quello che sento è che guardate, avete anche la forza. Ve lo metto qua vicino. Dovete avere la forza di andare avanti per la vostra strada. La forza di iniziare ad essere come voi volete essere. Il ribelle, come vi dicevo prima, spezza le catene. Crea il proprio impero, il proprio successo, il proprio potere in base alle sue regole, in base, secondo quello che lui crede sia giusto. Vi ricordo che qui avete l'eremita al contrario. L'eremita vi permette proprio di fare quel tipo di lavoro di pulizia, togliere le maschere. Qual è la vostra verità? Che cosa è veramente importante per voi? Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Saggezza. Wow! Ritorna la carta del remito, ok? Quindi questa carta vi dice ma ti sei mai reso conto che comunque sei già più saggio, sei diventato più saggio nel corso degli anni grazie alle esperienze che hai superato, grazie alle esperienze che hai vissuto? Adesso è tempo di attingere a quello che è questa saggezza per riuscire a trovare la forza in questa nuova sfida. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Ciao!